Hola chicos, sono qui per parlarvi della mia esperienza alla fiera della marijuana, la fiera delle canne, del fumo, la fiera dei bong, del wax e dei dubs e di shaggy, di scubidoo e del tipo di scherimuvi che urla Bella! Cosa stai facendo? Niente, sto qui a guardare le partite, a fumare un po' d'erba È tipo il motor show delle canne, con tutte le baracchine che non vendono da fumare, non fraintendere, vendono solamente le loro innovazioni in campo gangistico, ok? Per esempio, uno ha un nuovo bong super tecnologico di non so che cazzo e lo porta alla Spannabis Un altro ha costruito la macchinetta per fumare il wax nel migliore dei modi con meno combustione possibile del Cristo di Dio Andiamo alla Spannabis Quest'altro pensa di avere le cartine più swag di tutta Europa? Prendiamo uno stand alla Spannabis Ah, i semi, un sacco di gente che vende semi Come si chiamano i semi che hai appena comprato? Auto? No, sono semi di Norton Norton Lights Sembra che non ne sai un cazzo? Sì, sono un coglione Shaggy di Scooby-Doo, anche lui aveva preso lo stand Però vorrei fare un appello prima di incominciare a parlare della fiera di Shaggy di Scooby-Doo Un appello al trovarsi un cazzo di lavoro, ragazzi È arrivata l'ora, cioè siamo arrivati al culmine Il festival delle canne Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè queste cose mi fanno solo diventare più conservatore Dico, più proibizionismo, ragazzi Sì, basta fare youtuber, basta fumare le canne Basta fare i designer, i fotografi, i videomaker, i musicisti, i rapper, trapper Influencer, Instagrammer Basta, ragazzi È l'ora di andare in fabbrica, trovarsi in cazzo di lavoro E smetterla di fumare le canne E tantomeno smetterla di fare il festival della ganja Zii, ma di che stiamo parlando? Di che cazzo stiamo parlando? Siamo qui alla Spannabis e l'unica cosa... Vabbè, fatto sta che sto posto è abbastanza curioso come concetto Perché diresti al festival delle canne è super accogliente per i fattoni O almeno c'è un'area chill Non c'era un'area chill Non c'era un'area dove ci si poteva sdraiare e fumare E questa cosa era molto strana C'era solo un piccolo pratino Dove se riuscivi a trovare uno spazietto eri graziato da Dio E tutto il resto era enorme Folla fittissima Baracchino ovunque C'è stand ovunque E sinceramente a me è sembrato come, non lo so, un po' paradossale Un po' come avere una comunità di fumatori E organizzare una maratona, capito? Che cazzo fate? Vi beccate alle 7 del mattino Vi fumate 30 cannoni E poi fate 10 chilometri di corsa Cioè nel senso tutti a fumare, fumare, fumare E allo stesso tempo camminare al caldo in mezzo alla gente Gli stand e prova questo e fai quello e parla con lui e cos'è Tipo Oh, lasciami rilassare, Dio Anne Ed ero così fatto Che a una certa sono collassato sul pratino per un'ora Perché non ce la facevo più E il giorno dopo che avevo anche il biglietto Non ci sono andato perché ero troppo rimasto Quindi sono rimasto a letto non tutto il giorno Però insomma mi sono alzato Sono uscito a pranzare Poi sono tornato a casa Ho dormito per 3 ore Ho lasciato andare Olmo da solo Perché io non ne potevo più Sono uscito alle 7 A fare aperitivo con un mio ragazzo di bolo Che ho scoperto quel giorno essere lì a Barcellona Eccoci qua, sei sulla rambla Salute E beh, è andato tutto bene Ma bro, ero rimasto Ero fucking rimasto Cioè non ci stavo fucking dentro E oltretutto Quello stesso giorno Olmo è arrivato a Barcellona Che io ero arrivato il giorno prima Alle 7 del mattino Mi viene a suonare all'Airbnb Con un ragazzo che è conosciuto nel bus Ciao ragazzi Nella tratta tra Valencia e Barcellona Conosciuto in pratica Sono salito in bus Mi sono seduto Ho aspettato un attimo Lui è salito Mi fa 13 Sono di fianco a te E lo guardo e dico Perché vai a Barcellona? Mi guarda e mi dice Per la misma razón de ti E io lo guardo e facciamo Conosce sto ragazzo Me lo porta a casa Simpatico per l'amor di dio Ma iniziano subito Inizia subito la smoking session E poi dobbiamo andare al cazzo de festival Io sono già spaccato E lì mi spacco ancora di più Perché c'ho il wax E ci sono tutti i posti Che hanno i loro bonghettini Nuovi, moderni Super swag Vado a questa baracchina Sta lasciando fare un tiro Con il nostro wax Dal suo davvero elettrone Sto cristiano Mi fa Non ho capito Io sono già sparatissimo Non ce la posso fare Ah questa è la nuova roba Per fumare wax E così e cos'è Io sono tipo Ah io ce l'ho il wax Mi fa Dai dammelo Se vuoi lo proviamo E io sono tipo Vai Figa mi piglia Una spadellata De wax La caccia nel suo bagaglio Sono tipo Figa adesso devo fumarmelo tutto Vecchio Cristo Santo Allora Ok Ok sta vibrando ragazzi Ok ragazzi Interessante Mi stavo sciogliendo Dopo quella roba Lì ero tipo Ziii Non ce la faccio più Un'altra cosa divertente Che è successa Dopo il festival Siamo andati a cena Ed eravamo così spanati E insicuri E ritardati Se si può ancora dire in Italia Entriamo in un ristorante Guardiamo il menù Usciamo Poi siamo tipo No ci stava Torniamo dentro Riguardiamo il menù Usciamo di nuovo E poi di nuovo Torniamo dentro E chiediamo un tavolo Vecchio E il cameriere è tipo Bentornati E noi tipo Sì Poi un'altra cosa simpatica Io sono andato alla Spannabis Perché il tipo di THC Comida Mi aveva invitato Ha detto Dai vieni Che ti do un posto dove stare Guarda questo Airbnb Vadafacca ci sono tre camere da letto E io avevo capito Che l'Airbnb Ce lo dividavamo insieme Cioè ce lo dovevamo dividere Quindi il primo giorno Che ero da solo Non c'era ancora Olmo Sono tutto lì Che lo aspetto E dico oddio Chissà come sarà sto tipo Non l'ho mai conosciuto Che cazzo ne so Così cos'ha Figa arriva a mezzanotte Lascia due robe Mi saluta E poi se ne va E io ho sentito Ma non avevo capito un cazzo allora Cioè questo Airbnb è mio Ho appena realizzato Che questo appartamento È tutto per me Io pensavo che sarebbe arrivato Con altre tre persone Che doveva dormire lì C'erano tre camere da letto Zì Era tutto per me Potevo invitare Otto Otto miei ragazzi di bolo Non avevo capito un cazzo Tant'è che poi mi hanno scritto ovviamente Dicendomi che potevo invitarli Hanno ragione eh Però non avevo capito Che fosse un Airbnb per me Sai Ormai sono famoso Mi prendono tutto l'Airbnb Che cazzo devo fare vecchio Sono ricco Famoso Perché sono bello Ricco Famoso Nero Yeah Faccio soldi e scopo Vecchio Come bello figo Già lo sai Un sacco di gente mi dicono Fai il serio Ma io li rispondo Faccio soldi e scopo Faccio soldi e scopo Poi curiosi anche gli eventi post Spannabis Si beccano tutti quelli della Spannabis Nei coffee shop Fumano come dei pazzi E poi muoiono Basta Cioè infatti Io non me lo spiego Cioè io non mi spiego La vacanza Del fumare Capito Tutti quanti siamo italiani Tutti quanti conosciamo Dei fumatori E tutti quanti conosciamo Dei fumatori Che sono andati ad Amsterdam O che perlomeno Vogliono andare ad Amsterdam O a Barcellona A fare i califfi Del fumare duro Ma non c'è un cazzo di senso Cioè nel senso Provi una roba Provi due robe Sei fatto come un culo Non capisci più niente E non è come Quando sei ubriaco Che almeno ti diverti Diciamo Diciamo No Cioè più sei fatto Meno ti diverti Cioè perché arrivi A un certo grado Di spananza Dove stai zitto E guardi il vuoto E che cazzo Di vacanza è mai questa Che cazzo Cioè Veramente Stupido Vecchio Cioè Ah proviamo Gli edibles E proviamo Il wax E proviamo le canne E proviamo il fumo E proviamo questo E quest'altro In tre giorni Vecchio Cioè muori Vecchio Cioè nel senso Arrivi a un giorno A un tale livello Di rimastanza Dove Cioè tanto valeva stare a casa Vecchio Non lo so Io sta cosa Del fare il califo Delle canne In vacanza È così strana Tipo Gourmet assaggiatore Crede sto cazzo Ma zì Ma tu sei drogato Ma beviti una birra Vecchio Vai a far balotta In centro Non lo so Conosci nuova gente Vecchio A fuori le canne Vecchio Ma per favore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti